segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te l'apertura abbiamo definito come il solista della politica italiana perché carlo calenda vuole correre da solo prima di arrivare alle sue strategie facciamo l'analisi del voto a queste amministrative azione il suo partito ha vinto ha perso no no io la cosa classica dire ha vinto trovi un leader pulito è andata bene in alcune parti è andata meno bene in altre ha fatto un ottimo risultato al primo turno sui candidati indipendenti che ricordo erano iscritti ed azione o più europa quindi non è che erano noi che siamo andati su persone sconosciute e ha fatto bene alcuni ballottaggi sono molto contento di verona sono molto contento del primo turno di padova sono molto contento di alessandria di monza di cuneo dove c'è una lista civile visto che aveva espresso no perché vedi a genova per bucci però era di centrodestra io sono contento genova il io l'ho detto a bucci io l'avrei sostenuto un grande piacere ma aveva una quota di fratelli d'italia molto forte io penso che insomma fratelli d'italia ha una visione della politica della società del rapporto con l'europa molto diversa dalla mia incompatibili e prima di entrare sulla strategia un'altra domanda sul risultato elettorale e ha vinto il centro sinistra o ha vinto soltanto il partito democratico non glielo so dire perché moltissimi candidati erano di non del partito tommasi non è del partito democratico giordani a padova non lo è altri erano del partito democratico sa le io credo che ci sono due dati primo proprio per ricoraggiare una cosa se posso io non vado da solo io vado con un come segretario di un partito che ha 30 mila scritti 2000 amministratori locali che ha fatto una federazione con un altro partito guidato da emma bonino che abbia con cui abbiamo una leadership insieme ed è importante dirlo perché noi abbiamo voluto costruire un partito facendo i congressi facendo cioè un percorso per costruire classe dirigente quindi non sono non sono io diciamo io sono alleati nel senso che non non senza alleati senza entrare in un polo di centrodestra che ha tutto il contrario di tutto dentro molto anti europeo un polo di sinistra che ha dentro i cinque stelle con cui difficile governare allora di sinistra non di centrosinistra quindi lei oramai no no possiamo chiamarlo anche di centrosinistra certamente letta una persona più di centrosinistra però il problema è che lì c'è una componente che non vuole i gassificatori termovalorizzatori capito quindi quella come la chiamo populista ecco mi faccio a dire allora lei ha fatto riferimento a verona non dimentichiamo lei è un euro parlamentare del come si chiama italia 2 insomma del del collegio del grande collegio del nord e sono cinque dal nord est viene sebastiano barisoni per cui a lui un'altra domanda a carlo calenda ma addirittura io vengo proprio da verona anche come tifo calcistico la domanda è molto semplice per calenda che saluto e parto con quella politica poi a suo tempo vorrei farne anche uno di carattere economico allora quella che con un'immagine un po figurativa è stata chiamata l'italia della 4 dove la 4 la torino venezia il cuore pulsante produttivo di questo paese beh se tu la prendi calenda da milano lasciamo stare alessandria fino a venezia cosa incredibile che tu hai milano bergamo brescia verona padova venezia dove in quello che è comunque una regione un'area geografica orientata al centro destra e dei sindaci di centro sinistra volendo anche in questo inserire brugnaro a venezia allora è chiaro che il cuore produttivo del paese non solo sta ponendo domande di serietà di moderazione di europeismo ragionato e non politico di competenze e tutte domande che dovrebbero far contento un'idea di centro per come e lei l'ha sempre intesa perché questo e me lo vediamo anche da altri indicatori quando la gente ha paura vede l'inflazione vede la guerra uno vale uno per fortuna è finito aggiungo io e uno vale per le competenze che ha a me è molto sorpreso l'aver alzato subito una barriera verso di maio perché lo dico perché ho criticato moltissimi cinque stelle l'ho trovati assolutamente fuori strada in tantissime cose che hanno fatto nel governo giallo verde ma se una pezzo di quel movimento che pure partiva anche come lei ha scritto nel suo primo libro da esigenze di un certo medio basso che si sentiva minacciato da una globalizzazione non gestita bene si stacca un pezzo riconosce che uno vale uno era una cavolata a posizioni atlantiste europeiste a quel punto perché dire subito no allora la domanda che non c'è nessuna credibilità e la credibilità come lei sa è parte fondamentale della vita in particolare per quel ceto produttivo di cui parla lei nel senso che uno può cambiare opinione nella vita ma se cambia opinione sempre quando gli è utile diventa molto più complicato ritenerlo affidabile il rischio che sempre c'è e che la prossima volta il cambio di opinioni se gli conviene lo riporti dal lato da cui è venuto e dunque io quello che so di di maio e lei dovrebbe saperlo meglio di me è che ha smontato industria 4.0 distrutto la strategia energetica nazionale fatto saltare lì questi sono i fatti poi esistono le chiacchiere e a chiacchiere noi siamo il paese che è campione del mondo allora io non per carità che il movimento 5 stelle si spacchi a me fa piacere quello che dico è che se si vuole ricostruire un'area della politica fondata sulla serietà il pragmatismo secondo me non lo si può fare con una persona come di mai lei dice e non mi fido di di maio perché chi ha tradito una volta potrebbe tradire solo quando c'è una situazione che è opportunista cioè quando gli conviene per quello che fa visto che il trasformismo è un po un tratto comune della politica italiana e abbiamo visto tanti leader che avevano determinate posizioni pensa napolitano che difendeva nel 56 l'invasione dell'ucra dell'ungheria e poi è il primo leader del pc che va negli stati uniti ricordando la prima repubblica e ricordando un'intervista di un esponente della prima repubblica come tabacidi che diceva nella vecchia dc co abitavano tantissime personalità diverse c'era aldo moro c'era alcide de gasperi c'era ciriaco de mita visto che i pretendenti al centro sono tanti perché non fare una una federazione con tante personalità diversa quella di quella dc lì non ho nessun rimpianto quella dc nella fase finale della prima repubblica fu quella che fece esplodere il debito pubblico italiano utilizzando massicciamente l'assistenzialismo noi abbiamo sempre prima demonizziamo poi recuperiamo acriticamente oggi siamo in un'altra stagione e in un altro mondo quella dc era tenuta insieme dal fatto che dall'altro lato c'erano i comunisti e che quindi doveva essere un blocco unico oggi questa cosa è caduta ci sono differenze che sono differenze più articolate e più sottili e tuttavia quello che io credo che sia molto importante che in questo secondo turno di elezioni il 60 per cento degli italiani rispetto a questo derby destra e sinistra che era nella maggior parte delle città si è astenuto allora credo che un politico si deve porre il problema di come cercare di riportare al voto le persone che non ci vogliono andare ora la nostra strategia non so se è giusta o sbagliata è quella di cercare di essere sempre molto trasparenti e coerenti cercando di spiegare sempre come fare le cose quello che è possibile fare quello che non è possibile fare questa strada implica anche cercare di cambiare la classe dirigente non prendendola solo da fuori dalla politica e basta ma prendendo gli amministratori che prima arrivavano in quell'epoca la al parlamento che oggi non ci arrivano più perché quei parlamentari rimangono per sempre perdono il contatto con il territorio questo progetto è un progetto differente è molto utile al paese perché il fatto che ci sia un'area liberal progressista centrale europeista che ha un'idea sullo sviluppo come posso dire pragmatica che lo spieghi come fare le cose io credo che sia un fatto positivo non siamo fatto negativo poi tabaccio alla sua idea varisoni a pensa che di maio sia una risorsa repubblica ognuno tutto questo è legittimo la nostra ha una declinazione differente tra poco torno da varisoni però voglio stare ancora un momento su questo ragionamento della della sua strategia lei più volte ha detto noi vogliamo fare un soggetto di centro che spacca l'attuale bipolarismo ma se pone una pregiudiziale contro il partito maggiormente rappresentativo in questo momento del centrodestra come fratelli d'italia non c'è il rischio che alla fine a spaccare spacca soltanto il campo nel quale dovremmo gravità lo guardi io credo però provo a spiegarlo in maniera molto semplice le prossime elezioni vanno al voto due coalizioni che non sono in grado di governare nella coalizione di sinistra perché ha troppe contraddizioni né quella di destra perché è anti europea e ha contraddizioni e tutte via di queste due coalizioni fanno parte partiti che governano insieme in europa che in europa stanno insieme su un profilo che è un profilo riformista e pragmatico è esattamente quello che bisogna fare in italia se azione compie europa prenderanno dall 8 al 10 per cento non si formerà un governo di destra la sinistra pochissime possibilità oggi ma si costruirà una prosecuzione delle esperienze di draghi di cui avremo bisogno perché avremo inflazione alta crescita bassa tassi che si impennano portando dentro dal partito democratico all'area della lega governista alla forza italia è l'ideale non è l'ideale noi facciamo quest'operazione politica per restare tuttavia oggi è la soluzione che non di maio che vuole che vorrei separare completamente le discussioni lei prima mi ha chiesto perché non si fa un partito con di maio e le ho spiegato il perché perché per fare un partito insieme uno deve essere molto convinto che ha valori comuni che ha prospettive comuni e che ha un modo di comportarsi sì ma io non lo posso fare di maio ha fatto tutto ha disfatto tutto quello che ho fatto al mese sarebbe davvero una cosa incomprensibile certo tuttavia questo non vuol dire che dopo le elezioni il supporto a un governo draghi sia così ampio che possa contenere persone che veramente lo lo supportano e sono pronta a supportare un'agenda riformista ma sono una cosa è fare un partito con delle persone certo una cosa è fare un'alleanza con delle persone questa è una cosa molto diversa perché se no noi non avremmo partiti avremmo due monopartiti possiamo fare un titolo così calenda non con di maio nello stesso partito prima delle elezioni si con di maio dopo da alleati no non lo può fare perché non mi riguarda perché è una cosa che riguarda il percorso politico di di maio di cui come ho spiegato molte volte senza bisogno che lo ripeto qui non ho un grande interesse quello che può spiegare quello che io posso spiegare quello che farò io quello che farà emma bonino quello che faremo insieme a quello che faranno gli altri ci devono pensare gli altri allora sebastiano barisoni allora due cose ho capito perché la sintesi è vero che calenda non vuole fare un perito con di maio sarebbe troppo oggettivamente nozze un po forzate però gli apparenti menti o comunque le coalizioni di un'area centrista perché così come calenda dice che e si può chiedere l'appoggio anche della lega più europeista e più di governo per usare un vecchio termine e si può chiedere anche la stessa cosa come apparentamento come coalizione non come partito unico sarebbe no 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 ti fermo però io non farò noi non faremo altre coalizioni che non siano quelle con più europa e con le liste civiche dopo le elezioni chiaro dopodiché che dopo si formi un appoggio al governo draghi il più ampio possibile per me nulla questo purché ci siano persone che sono democratiche europeiste condividano di maio in questo contesto a me non me ne importa niente un problema si presenterà di maio col pd ed è un problema del pd dopodiché a di maio secondo me per se per restare al governo deve dire che lui è fascista o comunista o a favore degli alieni o lo fa lo stesso quindi è rilevato ma è chiaro però diciamo lo spazio politico post elezioni la seconda domanda che volevo fare a calenda la seguente visto che citava la scarsa affluenza forse un modo per riportare le persone a votare e anche dare risposte su quello che tocca le persone del cavolo misti mi spiego io non ho visto nell'offerta politica fosse mi sono distratto nessuno affrontare in maniera strutturare la vera preoccupazione che abbiamo inflazione morde i redditi i redditi fissi salari in busta paga tu devi andare a settembre a una politica salariale io posso se propone il taglio del cuneo allora non riesco mai a dirlo perché mi sara e detassare i salari e allora il tempo è poco e sebastiano la risposta è chiara perché non me lo si domanda mai noi abbiamo proposto di poter far dare una mensilità dalle imprese recuperandola completamente detassata di contribuito recuperandola al 50 per cento con credito d'imposta siamo favorevoli al salario minimo purché sia determinato non dalla politica ma da un gruppo di esperti per chi non è coperto da contrattazione nazionale sono per la detassazione totale del salario di produttività che può essere aggiunto sono favorevole alla fissazione dei prezzi in particolare lo sganciamento della produzione delle energie rinnovabili da che oggi sono agganciate al gas e tengono alti prezzi cioè io questa cosa non è che l'ho spiegata cioè ho messo sul sito i numeri quanto cubano quanto costa come si vuole il problema è che nel nostro dibattito le affrontiamo in due modi o come abbiamo sentito prima cioè facendo dei singoli casi che sono molto importanti oppure parliamo di politica delle alleanze dovremmo parlare invece di come risolvere quei singoli casi nell'ambito di policy non l'ho voluta interrompere attaccino autряe